SIA D'Azio Cristo, buongiorno. Oggi è il martedì 8 ottobre. Tutte le cose sono in tuo potere e nessuno può opporsi alla tua volontà. Tu hai fatto il cielo e la terra e tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento. Tu sei il Signore di tutte le cose. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. Dio Onipotente ed Eterno, che esaudissi le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, effondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudeismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudeismo la maggior parte dei miei coetani e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi selse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare a me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano postoli prima di me, mi recai in Arabia, poi ritornai a Damasco. In seguito, tre anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui quindici giorni. Degli apostoli ne invidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, io lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nella regione della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea, che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire, Colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio per causa mia. Parola di Dio Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontani i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le Tue opere. Le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Alleluia, alleluia. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio ed osservano. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta dai molti servizi. Allora si fece avanti e disse, Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciato solo a servire. Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore. Concedi a noi, oh Padre Onipotente, che in ebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita, e di viveregna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.